Acqua e fuoco come elementi di una natura in continuo divenire, che genera e si autorigenera, accompagnando costantemente il divenire culturale dell'uomo. E questo è il filo conduttore che fa da sfondo alla mostra Natura Naturans, dell'artista Marco Calizzucconi, un progetto sostenuto dal Corpo Forestale dello Stato e organizzato dall'associazione Il Cuore, in occasione dell'anno internazionale delle foreste indetto dall'ONU. Come nasce l'idea di questa mostra? Allora, questa mostra in collaborazione con l'Ufficio di Relazione Pubblico del Corpo Forestale dello Stato nasce dall'idea del rapporto tra esseri umani e natura, che già precedentemente era stato sviluppato in un progetto del Harbour con il primo municipio. In questo caso, con questa mostra personale, si riprende questa tematica e inserendo proprio anche il discorso nella ciclicità della natura, la capacità di autorigenerarsi. Per quanto riguarda la collaborazione col Corpo Forestale dello Stato, come si è sviluppata? L'incontro con il dottor Niccolò Giordano è avvenuto qualche mese fa, il quale era al corrente di questo mio percorso che ci tengo molto riguardo all'argomento tra esseri umani e natura, tra arte e natura. È rimasto molto interessato a questo discorso che io porto avanti da diversi anni e anche da parte mia c'è stato un forte interesse a proporre dei miei progetti perché il Corpo Forestale è il luogo forse migliore in assoluto dove convergono l'aspetto tecnico, l'aspetto scientifico, ambientale, la prevenzione e l'aspetto culturale. Dalla distruzione alla rinascita, la natura è vista come forza creatrice, ma nello stesso tempo devastatrice, in un movimento costante dei due elementi base che l'artista ha scelto di raffigurare, acqua e fuoco. Per quanto riguarda invece la lavorazione in sé, quali sono state le sue ispirazioni? Da cosa è partito? La lavorazione, in particolare questo lavoro qui dietro di noi, è innanzitutto una ricerca di far emergere l'energia che io percepisco nella natura. Un'energia che è nutrimento sia creativo ma anche di vita perché l'ambiente circostante di noi esseri umani è fondamentale, non possiamo vivere senza un ambiente naturale. E questo l'ho vissuto sulla mia pelle e ha influenzato moltissimo la creatività. In questo caso c'è un albero in particolare a Castelporziano, la tenuta del Presidente della Repubblica, che presenta un tumore molto grande. È un olmo che ha proprio una palla molto grande e mi ha colpito molto. In realtà nella natura è un tumore, è una malattia. A me ha colpito il contenimento di questa palla, diciamo, sul corpo di questo albero. La via invece rappresenta la via verso la distruzione? L'aspetto distruttivo è presente nella via. Si rifà, secondo il mio vissuto, il mio periodo creativo durante il quale ho creato questo lavoro, si fa un po' l'immagine che ho visto dello tsunami in Giappone. Quindi dall'onda di Okusai all'onda di cui noi siamo stati testimoni tutti quanti noi, aver visto queste immagini in televisione, quanto un nozionario può essere distruttivo. Ma tuttavia dopo quest'onda distruttiva c'è anche un recupero della vita, un preservare della vita e una quiete che è la parte terminale di questo lavoro. L'opera radicale invece cosa rappresenta? Questo lavoro è iniziato sempre motivato da questo mio rapporto con la natura, in particolar modo con gli alberi. Però in questo caso c'è un valore aggiunto, che sono gli studi del professor Stefano Mancuso, il quale ha confermato scientificamente, hanno provato scientificamente le intuizioni di Charles Darwin, in quanto i radicali presentano, la parte terminale sono circa un millimetro e mezzo di diametro, presentano le parti che sono più ricche di ossigeno delle altre zone del vegetale. E queste parti terminali dei radicali, che ho rappresentato con delle punte quasi luminose che sono nella terra, hanno la capacità di orientare le radici per cercare nutrimento e evitare gli ostacoli. E oltretutto poi sono anche capaci di comunicare tra loro gli alberi. Ciò che conta è il rapporto tra vegetali, tra natura e esseri umani. E in questo senso io mi sono fatto un appunto, una frase di Edgar Morin che per me è fondamentale, il quale scrive questo binomio si basa sulla capacità di seguire la natura che ci guida, di guidare la natura che noi seguiamo, di seguire nello stesso tempo in cui si è seguiti e di guidare nello stesso tempo in cui si è guidati. Grazie. 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 Grazie.